bella ragazzi è che questo nuovo video di Minecraft Hunger Games io sento una linea di AVE che... chi ti sento? eh cata che non so, ah ah la e adesso quel coglione ma ti se ne frega si c'è ho il Jockul Iron che non ho preso ah la grande, il Jockul Iron che non è preso la tua intelligenza non ce la neanche nella c'è stato ten 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 Shies bottiglia ahhhh c'è un gioco che hai fatto mi si bottiglia perché sto stivu qua dietro mi stai inseguendo... ho chiugata ok vatti devo salvare la vita oh perchè c'ho un tiracca, corri viave corri viave io, 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 io amo wana saala is Shop non ce l'ha notato Siamo sempre uguali Guarda quanta gente che c'è qui alla cesta C'è un uomo Quanta gente c'è un coglione Alla doppia cesta Perché stiamo scappando tutti da me Perché sei pro Guarda quello che sta scappando sono io Magari ti ho metto una mano Regredisco Adesso no l'ha fatto E torna indietro e fa il giro E non ho armi per quello Ok Grazie Eh minchia non ho preso l'arma La cosa più importante non l'ho presa Datemi arma Questo mi ha dato il cespe che mi ha rubato lo spancho e non c'era A me il 276 punti mi ha dato GG per te Mi sta simpatico Io sto simpatico Io Preso danno Sì vabbè No ma coglione l'ho coppito io Ma se l'ho coppito io Eh vabbè io sono di Ever Io 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 Capito Io 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 mi hanno chiuso dentro io sono alla fattoria sono alla fatto alla fattoria arriva alla fattoria perchè l'altro mi ha chiuso la porta no vai senti che non sai c'entrare il buco alla fattoria è il tuo compleanno oh 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 tu un coglione ah si? oh raga ne sta arrivando uno alla fattoria c'è occhio alle dietro ma adesso è il coglionito ma trova oh porca miseria come ha fatto? ho capito che è un hacker 346 punti un mezzo cuore per culpa di un pirla chiamato catalyst ah che coglione io ti ho detto io io il tuo compleanno hai rotto vabbè aspetta che cazzetto sta cantando in the club fa così è vero non stavo io non ce la piange io mangio un biscotto è il tuo compleanno è il tuo compleanno io 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 da st no ma scusami mamma non lo sapevo che non esiste beh il mio nome è Shady il mio nome è Shady il mio nome è Shady Shady fa cagare il cazzo una canzone famosa ehm e io posso volare io posso toccare io credo che posso volare va bene molto senso insomma tipo quella della oh scusa ma sei sempre questo è sempre me colpisce c'è qualcosa che ho messo sono si ma non sto colp... sono Shady io sono Slim Shady io sono Slim Shady io sono il vero Slim Shady finché la traduzione vabbè è il top c'è cura avete servito un pantone in ferro? no mi servo un chestnut guarda quell'altro la sopra che si fa i girelli ho altre canzoni oh altre canzoni eh quella la di come si chiama... di Madonna e company eh non la conosco Madonna è comp... Madonna è Gesù che club oh Dio vabbè tu c'è di spostare nooo nooo DJ Peppa nooo DJ Peppa in azione ahahahahah ahahahahah è la vinta ce nemmo laggiù comunque la vinta la vinta ahahahahah ahahahahah anche io ma la vinta no no tu non parte la male della schiena no tu non parte la male della schiena oh Dio sto piangendo ahahahahah ahahahahah che uccide la gente vabbè uccide la gente a mora mi regalano la camera a pelle uccide la gente che cazzo dici ahahahahah che cazzo va ahahahahah mi fa male la milto la mascella mi fa male la schiena la schiena la schiena una canzone quella di madonna dimmi il testo e non mi viene in mente aspetta l'uomo 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 ahiaiaia che è visto ahahah ma mi hai fatto una manichetta ahiaia basta aspetta il video mi complicata un attimo ahahah mi sei un pazzo aiuto ahia e mi so ripreso ahahah 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 ahhh alena ahha ahah ma ahahah come si chiama quella canzone di madonna right c'è quella la che ha fatto insieme al nero Gesù Christ Canta sei morto non ci faccio più stai registrando ci è uscita una battuta non so come si sto registrando a me non si è preso spiace però io la salvare il video visto che c'è la gente aspetta che c'è quella anche io quella la porca oh quella di madonna eh ma no ma la sai di sicuro zitto zitto alleluia piovono uomini piovono uomini come era quella di di anna e shakira come faceva già eh no io non la sono affatto te 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 oppure quella di mi sono emorizzato solo il video pa 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 po poker faccia pa poker faccia pa poker faccia pa poker faccia pa poker faccia oh light è la canzone di rian eh sì di rian di madonna è un negro mezzo ecco l'illuminato quello illuminata non viene il nome l'illuminato nero che sta rubando l'illuminato nero quello la che ha fatto anche il video con j Cristo vive io 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 hai capito io io ho ma coglione andate al cantiere bravo io 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 il tuo compleanno è il tuo compleanno è il tuo compleanno è il tuo compleanno gli auguri io 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 il tuo compleanno è il tuo compleanno italiano con l'inglese già fammi spazio vai 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 sempre dito vai contro il burro fammi riposare cata se la canzone se la canzone mai nega mai mio mio negro mio perché è un artista di merda e vai ammazzare sotto negro di me sta ritornando sulla tua strada bravo no vai ave uccidiamolo c'è una mucca dirà ti sta uccidendo ti sta uccidendo non ridi con noi quanti punti hai ale io ho tanti 20 mira tipo no dai prego dai fai lo tu ma dov'è questo cazzo vuoi adesso la tua strada adesso ma tu non puoi fare niente se non quando le macchie sto marocchino ma hai portato l'un incendio e basta il video di razzismo questo qua è il video del lunedì ale no no che lunedì domani lo devi caricare per un favore no no lunedì lo carico no non è il video del lunedì no no basta già stanno a uno spawn or bar di tutto si è lo spawn e stai chiedendo ti moco a tu e come si dice i team italiani squadra squadra e che c'è di male e che c'è di male e qui qua 1 1 1 quanto cazzo ha riso ave l'hai provata la mia texture minchia tani insultato di brutta light quando hanno provato la tua texture oh ave mi piace è stato l'unico che ha detto mi piace si è vero ti escono i colori cazzo però i sai cos'è c'è si ma non parlate della mia della sua texture che cazzo se ne frega io lascerei il video il link in descrizione ma no lascio la mia di texture le metto in copia del canale di ale 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 oh auguriamo ok mettiamo io ave tanto che ale si appunto capire ci farà merda vorale cibo si metto 20.000 punti su casa di strommo ammazzate noo che merda che figlio di puttana che sbagliata noo volevo ucciderlo bastardo ti stavo per uccidere 1 e mezzo non si parla non si parla mi attaccavo in prima stava volendo ma perché mi è comparso nel rinascimento cioè non è che non so niente che lagghi pochio oggi di questo è stato un bel video c'è pure la mea raga mi sembra di più di noi c'è pure la mea spero che vi sapessero questo video questo è light saluta bravo saluta tu dozzo raga mi sta crescendo il gioco fateci pure a me fateci pure a me fateci pure a me uno 1,2,3 vai non so che vi sia facendo questo video eh se non me la fanno fare non so che vi sia facendo questo video e ci vediamo con il prossimo salutate voi bottiglia morcimati madonna ciao light saluta tu sei l'unico che non ha salvato e qua c'è una scimmia ciao bye bye